Annalisa ad Amici 17 Gulp Music, a Verissimo Michelle Unziker, Cecilia Capriotti e Craig Warwick, a Sabato Italiano Millie Carlucci. Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 24 febbraio. Ospite di Gulp Music del 24 febbraio 2018. Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Sabino. Annalisa presenta il brano Il mondo prima di te con cui ha partecipato a Sanremo il nuovo album di inediti Bye Bye, che la vede in una veste nuova, con sonorità e temi originali. Per l'occasione risponde anche alle domande arrivate per lei attraverso i social network di Rai Gulp. Ospite di Amici 17 del 24 febbraio 2018. Alle 14.10 torna su Canale 5 Amici 17. Conduce Maria De Filippi. Ospite Annalisa, ex allieva e oggi tutor del talent show, che canta il brano di Sanremo. Ospiti di TV Talk del 24 febbraio 2018. Alle 14.55 torna TV Talk su Rai 3. Conduce Massimo Bernardini. Ospiti Corrado Formigli, Alba Parietti, Camilla Raznovic, Renato Franco, Platinette, Enrico Bertolino, Beppe Severgnini, Diego Passoni, Marta Cagnola. L'apertura del programma sarà dedicata a un ultimo bilancio sulla campagna elettorale e la comunicazione dei politici. Con Corrado Formigli si affronterà anche il caso Fampaget. Nella parte dedicata all'intrattenimento, analisi su il commissario Montalbano con un servizio sul turismo nato in Sicilia proprio sulla scia di questo personaggio. A seguire con Nicola Savino si parlerà di 90 special. Per concludere, un dossier dedicato ai P.O. Play Show? Cosa cerca la TV dal proprio pubblico? Perché i telespettatori vogliono essere protagonisti in TV? A proposito di questo, la lente di TV Talk tornerà su C.A.Posta per te. Ospiti di Verissimo del 24 febbraio 2018. Alle 16.10 torna su Canale 5 Verissimo. Conduce Silvia Toffanin. Dopo il successo ottenuto all'ultimo festival di Sanremo e pronta per una nuova avventura in TV su Canale 5, sarà ospite Michelle Unziker. Inoltre, il prof di Amici 17 Rudy Zerbi, il nuovo direttore artistico Luca Tommassini e una tra le voci più apprezzate dell'ultima edizione della Kermesse Sanremese, Giovanni Caccamo. Infine, spazio all'isola dei famosi con gli ultimi naufraghi tornati dall'Honduras, Cecilia Capriotti e Craig Warwick. Ospiti di Sabato Italiano del 24 febbraio 2018. Alle 16.45 torna su Rai un sabato italiano. Conduce Eleonora Daniele. Ospite Millie Carlucci, che presenterà la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1 dal 10 marzo. Con lei alcuni campioni del programma, i ballerini Stefano Radei, Bera Kinnunen, Raimondo Todaro e Anastasia Kuzmina. Con Max Giustin Studio si parlerà poi del suo nuovo spettacolo al Teatro Olimpico di Roma. Ancora teatro con Caterina Murino, protagonista di un lungo faccia a faccia con la conduttrice, e che racconterà l'esperienza sul palco della sua ultima piece. Nel corso della puntata anche un talk sui fatti più caldi della settimana. Non mancheranno le sorprese con Maurizio Ferrini, in collegamento per una missione speciale. Ospiti delle parole della settimana del 24 febbraio 2018. Alle 20.15 torna su Rai 3 le parole della settimana. Conduce Massimo Gramellini. Amore, ansia e malattia, nell'anteprima Gramellini ne parla con Daria Bignardi. Saranno ospiti anche la giornalista Mirta Merlino, l'attrice Lella Costa e l'indimenticabile protagonista di tanti mondiali italiani, Marco Tardelli, in una puntata tutta dedicata ai fatti legati alla più stretta attualità. Non mancano gli ospiti che arrivano dalle storie di Cronaca e Geppi Cucciari che, come sempre, aggiunge il suo particolare punto di vista. Grazie. 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 Grazie.